Meno di una settimana al voto anche per 9 che dopo quasi un anno di guida a cura del commissario prefettizio Renata Carletti ritroverà la normalità con un sindaco eletto dai propri cittadini, da un lato Franco Bordignon sindaco dal 95 al 2004 al timone della lista civica vicina al centro-sinistra per 9 futura, dall'altro l'imprenditore 56enne Luca Rebellato che si presenta con la lista ricomincio da 9.